ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati al nostro live del martedì è da un po che non ci vediamo in diretta e purtroppo insomma da un lato per fortuna dall'altro perché ci sono stati un sacco di eventi speciali ultimamente che insomma sono stati quelli un po la causa della mia assenza delle analisi di mercato abbiamo intervistato un po di persone ho voluto portarvi un po voci di altri oltre che la mia riguardo alle cripto riguardo a bitcoin in particolare se mi seguite lo sapete sto cercando di portare un po di addetti ai lavori nel senso persone proprio che lavorano nell'industria di bitcoin e delle cripto per dire un po la loro opinione per chiedergli cosa ne pensano del suo futuro parlare un po di varie ed eventuali e collaterali diciamo così inerenti al mondo cripto e a tal proposito per ora vi ho portato due persone estremamente rilevanti che so vi sono piaciute molto sono andrea medri di the rock trading e christian micoli di conio e che dire è stato un successone perché voi siete stati super gasati la cosa mi ha fatto veramente piacere perché credo che possano dare un tono in più anche a questo canale al di là del parlare semplicemente di grafici analisi speculazione investimento è importante anche in quanto investitori insomma capire i fondamentali tra virgolette passatemi il termine perché insomma bitcoin è di più di un semplice grafico ogni tanto ve lo voglio ricordare e quindi niente questo è un po il discorso introduttivo riguardo a quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo io non sono mi pare cioè venerdì scorso non ci sono stato per questa ragione ma adesso recuperiamo tutto tanto venerdì non c'era molto da dire fortunatamente adesso recuperiamo tutto andiamo a vedere che cosa è accaduto come è cambiato il mercato che cosa ci dicono i grafici insomma queste cose qui le recuperiamo tutte quante purtroppo non ho si sente molto basso aspetta che controllo l'audio non vorrei che aspetta te lo aumento un po facciamo così dovrebbe sentirsi un pelino meglio avvicino anche il microfono nel dubbio ecco dimmi se si sente meglio ditemi pure datemi un feedback insomma riguardo si sente più basso del solito allora aspetta che prova a fare anche un'altra cosa dalle impostazioni molto basso mannaggia al decoder all'encoder anzi aspetta ingresso tac facciamo che lo alzo un po va meglio ditemi un po se va meglio se vi sembra che si senta un po meglio di prima un po più alto datemi qualche feedback perfetto ci basta vederti meglio allora lo alzo ancora un po cosa dite o è sufficiente si così ottimo va bene nel dubbio lo alzo ancora un pelino perché ho visto che in effetti ma caricato di default non so non so per quale motivo un'impostazione con volume più basso probabilmente perché appunto negli scorsi live ho cambiato qualche impostazione avevo fatto tutto il mio layout super figo avevo cambiato anche le impostazioni del microfono in ogni caso niente chiusa la parentesi visto che oggi purtroppo alle 7 devo scappare per via di impegni concentriamo il live in meno tempo mi perdo meno in chiacchiere introduttive e passiamo direttamente alla lettura delle vostre domande e poi all'analisi dei grafici prima di iniziare con le vostre domande che vi ricordo insomma dovete fare per gasarmi un po per interagire con il live per partecipare insomma vi riporto un paio di notizie al volo che vi potrebbero interessare la prima è che sono stato invischiato di nuovo tanto per cambiare nella trading competition di Bybit che ho creato il mio team insomma ormai è diventata una tradizione quasi ma al di là della della gara in sé che se volete fare qualche trade speculativo insomma potete aggiungervi al mio team vi condividerò poi il link su nella descrizione su youtube lo dovreste vedere anche ogni tanto comparire in chat in ogni caso è carino perché ci sono a chi partecipa anche se non gliene frega niente di gareggiare c'è il 20 per cento di sconto sulle fees durante il periodo 50 dollari di bonus solo per la partecipazione quindi può valer la pena partecipare anche solo per quello anche senza impazzire a fare trade io ve lo condivido perché mi sembra carino farlo e credo che è un'occasione anche per raccattare qualche bonus che male non fa insomma inoltre ogni tanto fanno qualche giveaway io ve lo condividerò al di là appunto della gara in sé se volete unirvi al mio team trovate il link non costa nulla non c'è da fare non c'è nessun obbligo niente di questo tipo semplicemente ci si unisce al team si ricevono i bonus e se si vuole si può partecipare a proposito di bonus oggi o ieri dovrebbe essere arrivato il bonus di bloc fai e molti di voi me lo hanno confermato perché sapete vi ricordate la promo dell'alving a tal proposito mi hanno scritto oggi che dovrebbe esserci un'altra promo carina ve la condividerò però nei prossimi giorni la seconda notizia ve l'ho detto oggi vado un pelino più veloce poi leggo le vostre domande quindi mi raccomando fatele tra pochissimo le leggo riguarda together che è una carta cripto che a me non è mai piaciuta da impazzire infatti non l'ho mai recensita ma insomma non vuol dire niente questo ovviamente che recentemente negli ultimi giorni è stata chiarata adesso non so chi di voi la abbia la utilizzi ma il mio personale consiglio è di essere estremamente cauti adesso con l'utilizzo di questo servizio perché sì è vero sembra che siano stati afflitti soltanto gli investment accounts che non so neanche cosa voglia dire di preciso e i wallet no quanto meno i wallet euro i wallet bitcoin la carta quanto pare non è stato afflitto tuttavia ecco detto con estrema sincerità io non la userei in questo momento perché questo discorso dell'hack unito al fatto che non hanno avuto la liquidità per coprire i danni quindi li vogliono pagare in token hanno detto daremo quando riusciremo ad avere vi daremo anche insomma a me non piace vi dico la verità questa situazione quindi io personalmente eviterei di usare questo servizio senza voler dire è uno scam non è uno scam non mi permetto di pronunciarmi in una con una certa forza con una certa esposizione però per motivi di sicurezza io al momento eviterei ecco di utilizzarlo poi ditemi voi cosa ne pensate se l'avete con cosa avete notato insomma tutti i vostri pensieri ma il mio personale pensiero è questo niente adesso inizierei subito con la lettura delle vostre domande poi andiamo a buttare un occhio su bitcoin che è in corsa però c'è già stata la prima candela di sell off una bella candelozza rossa che ha legnato in testa alla domanda facendo appunto il primo sell off e arrestando l'up trend adesso vediamo un po come si sviluppa ci sono alcune aree di ingresso potenzialmente interessanti perché il bias comunque è fortemente bullish alcune dinamiche molto molto belle e le andiamo appunto a vedere allora prima prima parentesi lettura domande dunque qui che cosa c'è una notifica di twitch vai via allora cominciamo pronti ciao a tutti ciao ciao buonasera ho acquistato il biglietto per il 26 a bologna col tuo referral code grazie per lo sconticino ma grazie a te per aver usato il mio referral code mi raccomando cercami a bologna dimmi guarda sono io che così ci conosciamo facendo chiacchiere lo stesso vale ovviamente per tutti perché a bologna non vedo l'ora di poter conoscere voi della community il motivo principale per cui ci sarò è proprio quello sento piano che hai qua c'erano i problemi di di audio ciao luca hai esperienza delle piattaforme p2p tipo bondora tuino rendimento etico eccetera sei investito su qualcuna di esse allora ti dico la verità la mia risposta è no però penso che siano non cioè interessanti vale la pena considerarle se dovessi categorizzarle personalmente le metterei un gradino però sopra in termini di rischio alle piattaforme di cefai perché spesso non sono proprio collateralizzate quelle piattaforme lì di peer to peer lending e sono sono interessanti perché sono prestiti ovviamente privati con pochi costi di intermediazione però ovviamente ci sono sempre dei rischi legati principalmente all'insolvenza della controparte quindi i rendimenti a volte sono interessanti è difficile capire bene qual è la sicurezza del prestito perché spesso e volentieri insomma se abbiamo la vetrina via la descrizione però non abbia le competenze poi e gli insights chiamiamoli così per capire quanto effettivamente il prestito è legittimo oppure no vi dico non non voglio dire ovviamente che uno scam anzi vi dico se la volete usare nessun tipo di problema perché conosco tantissime persone che ci investono e la consigliano ciecamente non hanno mai avuto problemi quindi la mia opinione è assolutamente positiva parlavo solo di rischio perché insomma il rischio un po questo della dell'insolvenza di eventuali cigni neri e cose di questo tipo e quindi insomma le metto un granino sopra in termini di rischio alle piattaforme di cefai ciao luca conosci il progetto polkadot cosa ne pensi dei fondamentali altro che se conosco il progetto polkadot perché ci sto preparando un video che se tutto va bene esce giovedì però non vi voglio anticipare nulla perché se poi non riesco a farlo uscire giovedì mi insultate quindi sì conosco il progetto ti spoilerò già che mi piace molto e che ci vedo un potenziale trend in in polkadot ma in generale nell'interoperabilità tra chain quindi polkadot cosmos tutti quei progetti di quel tipo ren ne abbiamo già parlato di alcuni e consiglio ovviamente di approfondire e seguire questi progetti perché hanno applicazione concreta soprattutto adesso che il mondo del defy è un po esploso ethereum sta in ginocchio perché oggi ho provato insomma già per aprire un'altra parentesi vi ricordate il discorso di token set no il quel fondo gestito da una mia strategia totalmente defy vi faccio anche brevemente vedere insomma dovrei avercelo qua da qualche parte ecco questa è la beta perché io sto adesso sto sperimentando un po con il beta ho creato il mio il mio ecco il mio primo fondo che per ora non ho ancora ribilanciato che sarà vi spoilerò già qualcosina tra bitcoin e compound usd cc usd c quindi sostanza è una strategia simile a quella basata sulla pendenza delle medie mobili se mi seguite trend follower ovviamente dove in sostanza io ribilanciarò questo fondo periodicamente in base ai segnali che questa strategia mi darà l'ho adottata su due time frames contemporaneamente per avere un segnale debole un segnale forte insomma mi sono fatto tutta una logica che poi vi condividerò quando la strategia andrà live dove anche voi potrete acquistare una quota di questo set la cosa bella di questo è che in sostanza è un token immaginatevi la quota di questo set che dà diritto a una quota del pool di collaterale sottostante del token che appunto è una combinazione tra bitcoin e compound usd c in base al mio ribilanciamento vedete io posso in qualsiasi momento ribilanciarlo in base ai segnali poi che la mia strategia mi dà quindi in sostanza sarà una sorta di copy trading se così lo vogliamo chiamare ma a basso rischio l'ho chiamata alfa perché poi ho in mente di fare anche beta eccetera eccetera a rischio crescente quindi questa sarà quella a minimo rischio poi ci sarà la beta rischio maggiore poi altre due o tre ne ho in mente che utilizzeranno segnali e strategie diverse a rischio crescente per l'appunto tutto questo per dire che per io ho acquistato una parte con un po' di capitale di test ci ho messo insomma 400 dollari vedete che poi compaiono nel balance del creatore adesso voi vi dico già che non potete farci niente perché in beta quindi sto sperimentando io ci sto giocando un po' io e poi ve la condividerò una volta che avrò capito appieno il funzionamento della piattaforma ho speso tipo 30 dollari di gas per fare l'acquisto di questo set fortunatamente token set per questo periodo insomma per ancora un bel po' rimborsa tutti i gas i costi di gas visto che ethereum comunque sta bastonando duro quindi non preoccupatevi anche per voi per il futuro del discorso del gas perché vi verrà poi rimborsato da token set in ogni caso questo per dire che è quasi pronto visto che qualcuno di voi me l'ha chiesto a che punto siamo novità sì è quasi pronto è veramente questione di giorni massimo una due settimane e poi andiamo live si parte con questo nuovo esperimento sempre in pieno stile defa insomma potrete anche voi acquistare una quota un token a tutti gli effetti entrare in questo pool di collaterale e seguire la mia strategia in maniera totalmente automatica potete comprare vendere il token nel momento in cui volete e quando ce l'avete poi nell'account vi appare vedete quanti quanti ne avete io ad esempio ne ho 3,9 perché ognuno costava 100 dollari a qualcosa e è un token immaginatevi che appunto dà diritto a una quota di questo collaterale gestito dalla mia strategia stay tuned ecco per questo e questo mi è venuto in mente perché stavamo parlando del fatto che ether è veramente in ginocchio è saturissimo e quindi il gas costa una fucilata per fare una transazione si pagano svariati dollari di gas e per interagire con gli smart contract è una bastonata tremenda cioè 30 dollari di gas per andare a interagire appunto con dei decks perché quello che fa token sets poi è fare dei cambi andare a cambiare un token con l'altro tramite un swap tramite kyber quei decks li e quindi vi dico l'interoperabilità sarà veramente un qualcosa di cool di forte perché ci vuole bisogna superare un po questo limite se si vuole far scalare la defy e renderla un po utilizzata più massivamente e quindi progetti come polkadot progetti come cosmos e coloro che permetteranno di far comunicare più chain saranno veramente veramente interessanti un'altra cosa che vi volevo dire a proposito di progetti interessanti che vi ho già accennato è riguarda serum project serum che in sostanza è un progetto defy nascente che mi sento di consigliarvi di seguire oggi è stato annunciato il fatto che andrà in io su ftx e su cos'era bitmax mi pare che è un exchange che non ho mai usato e manco conosco io non parteciperò alla io ve lo dico già non è che voglio dirvi partecipate non voglio spammare niente né scillare niente sapete che io odio le a io non partecipo mai tranne quelle di binance che se ti va di di culo e prendi il ticket vincente dumpi subito e fai il tuo per due o qualcosa del genere ma al di là di questo è un progetto curioso perché prima cosa c'è dietro il team di ftx e quindi quello già mi piace mi interessa seconda cosa un bex di prodotti derivati serum costruito proprio dalle persone di ftx che di prodotti derivati un paio di cose sanno inoltre c'è tutto l'ecosistema defy quindi si potrà fornire liquidità guadagnando un interesse c'è la governance con i token srm ci sono tutte quelle strutture interessanti che adesso vanno molto di moda e soprattutto il signor sam di ftx ha tirato su un team di tutto rispetto perché ha preso praticamente tutti i migliori del del campo defy e gli ha chiesto consulenza gli ha fatti lavorare con lui gli ha gli ha fatto costruire parti di questo progetto quindi veramente interessante da seguire vale la pena seguirlo e io lo seguirò con molto interesse sempre col mio solito approccio ovvero non investo nella io assolutamente non ho intenzione di comprare il token subito aspetterò lo storico però lo aggiungerò alla watch list semplicemente come progetto che val la pena conoscere e seguire e volevo condividerlo con voi sarà costruito sulla blockchain solana proprio per superare gli ostacoli di ethereum la scalabilità solana è una blockchain più scalabile più centralizzata di ethereum è un po' si sposta verso la centralizzazione però aumentando la performance ed è interoperabile con ethereum quindi il token srm sarà su solana sarà anche year c20 coesisterà su diverse blockchain e insomma voglio proprio vedere come come nascerà come crescerà questo progetto e lo seguirò veramente con interesse ve lo volevo semplicemente condividere senza fini di shilling insomma giusto per ne ho già parlato in passato però vale cioè di progetti interessanti ce ne sono pochi e quindi io ve li condivido allora cosa ne pensi di elrond e cardano come progetti allora elrond mi piace ti dico già cardano un po' meno mi sembra un po' più vaporware non c'è ancora molto di concreto di costruito sopra mentre elrond sta funzionando molto bene all'interesse di binance è veramente veloce è molto molto scalabile è un competitor diretto di zillica per capirci sono quelle blockchain basate sul concetto dello sharding ovvero di frammentare la blockchain in diversi frammenti e poi farli parlare un po' l'uno con l'altro sgravando una blockchain centrale e distribuendo le operazioni in giro in questo modo ha un throughput si è per usare una parolona quindi un numero di transazioni elaborabili nell'unità di tempo decisamente più alto vale la pena seguirlo perché molti stanno lavorando stanno progettando lì sopra quindi può essere veramente interessante allora come vedi cro ora dopo le ultime novità ecco sì cro ho visto che c'è lo swap mi pare tra mco e cro e in particolare penso che cassino il token mco se non ricordo male guarda non lo so perché non seguo molto bene il progetto però visto che ha avuto un bel salto ha fatto da 4 a 5 dollari mi pare e però non ti riesco a dire altro se vuoi più tardi possiamo dare un'occhiatina al grafico però sinceramente su un movimento così repentino non baserei un trade quantomeno io non credo che investirei mai su cro per discorsi miei perché investire in altcoin a parte rarissimi casi non non mi interessa e quindi che dire il trade magari lo vediamo dopo dando un'occhiata al grafico arrivato il referral da block fai o circa 0,08 btc grazie mille figurati mi fa veramente piacere goditeli tutti oldali tutti ciao luca quarta live questa volta non in palestra ma in riva al mare si ma la devi smettere però è mamma mia oh che sto rosicando un sacco bravo goditi il mare ma la maglietta della chiesa no in realtà avevo letto che qualcun qualche altro commento che diceva che sulla maglietta c'è c'è una doji e mi ha fatto molto ridere la cosa in effetti è una candela con lower shadow lunghissima per shadow corta e body veramente corto in realtà questa vuole dire che bitcoin è morto per questo questa maglietta bitcoin è morto ancora ecco e maglia grigia con croce sul petto in arrivo crocifissione di massa per gli orsi esatto crocifissione in pubblico guai a chi sciorta guai a chi vende ciao nella tua visita a conio cristian miccoli parlando di usdt ne descriveva l'aspetto di anonimità ma è vero è anonimo no ecco attenzione forse è stato frainteso il termine anonimo cioè ovviamente anonimo come bitcoin nel senso che se viene mosso da un address generico a un altro address generico e non è riconducibile con un nome un cognome ad esempio passando per un address di coinbase di un exchange oppure di un qualcosa che appunto lo lega una persona allora si si può definire anche anonimo il discorso che avevamo fatto era legato a un confronto tra la stable coin tether usd quindi usdt e la stable coin usdc quindi quella di circle per capirci di coinbase che differenza hanno queste due coin una differenza ciclopica ovvero usdc è una di quelle stable coin regolamentate cosa significa significa che lo stato ci ha messo il naso quindi ha dato l'approvazione per quella stable coin cosa che non ha fatto con usdt però di contro quella stable coin regolamentata è come dire ci può mettere il naso anche dal punto di vista della limitazione quindi non gli piace quello che fai ti sanziona perché hai fatto una transazione illecita non gli piaci tu ti blacklista quindi tu non la puoi utilizzare ti congela i fondi tutte quelle cose poco gradevoli che a noi insomma che ovviamente utilizzatori e stimatori delle cripto non apprezziamo di sicuro quindi quella era un po' la la distinzione che abbiamo voluto fare tra le due stable coins ovviamente non è anonima come può essere moniro perché i movimenti sono trasparenti però non è censurabile non è sanzionabile e non è blacklistabile in quel senso lì allora parteciperai al crowdfunding di the rock trading non ho detto di non dirlo è una informazione riservata perché cioè non voglio neanche dare bias e non voglio neanche convincere magari qualcuno perché lo faccio io oppure no però insomma dal mio entusiasmo secondo me si è capito ecco mettiamola giù così io non posso dare sapete consigli finanziari quindi non non fatemi dire cose buonasera buonasera cosa ne pensi di token set tac eccoci qua ci siamo giusto giusto per caso te ne ho parlato proprio prima quindi ne penso che io stesso sto partecipando e è veramente veramente interessante è un progetto fantastico tra l'altro ho capito un po' come funziona anche dal punto di vista tecnico perché mi incuriosiva e tra poco lancerò il mio il mio set ecco quindi sul pezzo mi raccomando nona live grandissima ben ritrovato ormai sei una presenza fissa mi fa veramente piacere chi ha ricevuto il bonus do block 5 quanto avete ricevuto io circa 0,0087 bravissimi sì sì penso che tutti abbiano ricevuto la stessa cifra almeno spero non credo che l'abbiano dato in momenti diversi ma questa consob che ci vuole combinare e ho letto ho letto la la notizia del della bizza un po' con binance futures vi dico il mio punto di vista perché insomma è importante è rilevante come cosa quella lì che è stata fatta una segnalazione quindi non vuol dire ancora nulla quello che può accadere è c'è una probabilità bassa alta non ve lo so dire ma non è certezza è probabilità che effettivamente si comporti come si è comportata con altre piattaforme di servizi di offerta di servizi finanziari perché effettivamente si parla di prodotti derivati quindi sono a tutti gli effetti servizi finanziari non non autorizzati ok perché non dovrebbero avere non hanno le autorizzazioni necessarie allora vi dico la verità binance conoscendolo credo che si muoverà per ottenerle perché adesso parliamone i fondi ce li ha i contatti ce li ha di sicuro e quindi io penso che non voglia escludere un mercato che potenzialmente interessante come quello italiano quindi io penso che si muoverà per ottenere le dovute autorizzazioni in ogni caso appunto ci sono un po di mesi dopo i quali credo che si dovrebbe iniziare a muovere qualcosa se si muoverà qualcosa perché ripeto non è una certezza ma è una possibilità alta bassa non lo so io io non la trovo molto alta se vi devo dire la mia però ovviamente bisogna stare attenti perché nel caso non bisogna farsi cogliere impreparati quindi meglio quando quando verrà fatta la segnalazione nel caso ovviamente di recuperare i fondi in qualche modo però potendo accedere comunque a binance perché dovrebbe essere soltanto futures la piattaforma interessata sarà comunque possibile trasferire i fondi dal wallet futures al wallet spot quindi non dovrebbe causare particolari problemi in ogni caso avrete ai avete la mia parola che terrò monitorata la situazione insieme a voi e vi aggiornerò a qualora ci fossero novità andiamo avanti allora domani si controllano i token nexo per i dividendi sai cosa sono curioso io di vedere quant'è il dividendo perché il dividendo è dato in base all'utile della piattaforma io voglio proprio vedere quanto è cresciuto a tutti gli effetti l'utile della piattaforma perché potrebbe essere interessante cz compra la console ve la risolve così si potrebbe tranquillamente farlo credo che abbia una quantità di liquidità incredibile e allora sia anche io ricevuto il bonus blog fai ciao a tutti ciao anche a te ben ritrovata together usata per comprare tirare subito via è purtroppo sì come si dovrebbe fare tenere solo i fondi che si usano nella piattaforma giusto assolutamente d'accordo perché queste carte insomma sappiamo bene che adesso ce ne sono alcune più blasonate di altre adesso tra poco uscirà la binance card ad esempio finalmente dico così non devo starli a mettere fondi in un wallet di terzi di cui non conosco bene l'affidabilità ovviamente se si parla di wirex che ha uno storico di tutto rispetto e quant'altro mi sento tranquillo se si parla di coinbase card mi sento tranquillo tranne quando devo pagare perché le commissioni mi fanno sudare freddo se si parlerà di binance card mi sentirò assolutamente tranquillo quando si parla di una carta piccola con poco bacino di utenza che ha dimostrato di non avere un milione di dollari di liquidità per ripagare i danni che ha subito ecco lì già uno ovviamente si preoccupa di più e di certo se mi ci depositeresti una parte dei tuoi fondi e la terresti lì per qualche mese direi di no sinceramente quindi purtroppo c'è da fidarsi un po' nel senso la fiducia qua è fondamentale bisogna avere fiducia nella terza parte a cui stiamo affidando i nostri fondi ahimè. Ho attivato block file 8 giugno forse per questo eh sì eh sì eh sì il bonus era a maggio mi pare al momento comunque together non permette il login guardi io non la vedo non la vedo benissimo la situazione non so come andrà un'occhiata al grafico di stellar anche se non ti piace molto eh sì lo andiamo a dare lo andiamo a dare da notare che la candelozza di sell off è partita a 10.000 euro ma va sai che non ci ho fatto caso non seguo mai la quotazione in euro allora andiamo a vedere per curiosità btc euro caspita sì poco poco dopo cioè la chiusura effettivamente a poco sopra i 10.000 euro e poi la bastonata sarà stata qualche balenotere europea chi lo sa chi lo sa allora torniamo qua eccomi in ritardo stasera ciao luca buonasera a tutti super gasatissimi grande non preoccuparti del ritardo perché tanto poi c'è la differita sul tubozzo allora io adesso volevo leggere qualche altra domanda poi passare all'analisi dei grafici perché ve l'ho detto non ho purtroppo tantissimo tempo quello che è successo a together dovrebbe far rizzare le antenne a tutti quelli che usano crypto.com guarda io ti dico la verità crypto.com è un po' più cioè nella scala di affidabilità la metto decisamente più in alto perché in ogni caso ha il suo storico ha dimostrato di col problema con wirecard si è comportata bene quindi per quello dico la verità mi fido molto molto di più non alla pari di una binance card vi dico anche questa verità però decisamente ecco la metto al pari di wirex per capirci sono sono entrambe le reputo entrambe affidabili ovviamente questo sincera opinione mia vuole dire che comunque non è un posto dove lasciare una grande quantità di fondi anche lì il discorso è li devi spendere le usi non le devi spendere io non ci lascerei i fondi sulla carta a marcire tra virgolette ecco allora 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 ha messo ad un master in fintech al politecnico di milano si va to the moon complimentoni caspita sai che sarebbe raccontamelo poi perché sono veramente curioso di di sentire che che cosa si dice io tornassi indietro anzi magari nel tempo perché no approfondirei molto il settore guarda complimenti per la scelta davvero riflettevo sul fatto che a fine anno scorso guardavo praticamente tutte le tue live anche se non capivo praticamente niente a forza di ascoltare e guardare i tuoi video ora capisco quasi tutto tranne le opzioni guarda mi gasi perché vuol dire che è servito a qualcosa no furia di bastonare con questi concetti astrusi in testa ci entrano però a parte gli scherzi mi fa piacere innanzitutto che ti segui le mie live in secondo luogo che sei cresciuto che questa community è molto cresciuta secondo me nel tempo io con voi chiaramente perché ogni ogni giorno che passa imparo cose nuove anche da voi perché mi avete insegnato tanto in discord chiacchieriamo prendo spunti scambio idee imparo veramente tanto da voi e mi fa piacere che la cosa sia reciproca le opzioni c'è tempo non ti preoccupare che sono veramente una punta dell'iceberg al momento cosa ne pensi dell'open interest di bitcoin allora è medio alto è abbastanza alto oserei dire e soprattutto la cme al momento ne detiene una grossissima parte perché se non erro la classifica per open interest è bitmex ok ok ex sì e poi cme quindi la cme gli istituzionali stanno spingendo veramente veramente tanto cosa pensi di darwinia è legata polkadot guarda non sei il primo a chiedermelo perché è saltato fuori anche in un'altra live ma purtroppo non ho approfondito non lo conosco quindi non ti so non ti so rispondere ahimè bella voglio partecipare alla premiere del video di polkadot bene giovedì speriamo vediamo ce la posso fare allora 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 molto curioso di questo set bene mi fa piacere che arrivi e fretta e tiri un due perché è una rogna sta roba del gas guarda veramente è un incubo quando oggi ho visto 20 quasi 30 dollari di gas ho detto no aspetta ci deve essere un errore aggiorna 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 ma niente no era era veramente quello è devastante è devastante il gas vediamo 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 scusate è iniziato da tanto guarda è iniziato da una mezz'oretta non ti è arrivata la notifica di twitch la mando anche su telegram quindi seguimi su telegram così d'ora in poi ti arriva la notifica polkadot non è un competitor di ethereum non direttamente però diciamo si mette in un settore simile perché permette cioè da un lato aiuta ethereum perché poi vedremo meglio quando ci sarà il video su polkadot per capire come funziona però ovviamente diciamo se ethereum ha un limite dato dalla sua scalabilità limitata allora polkadot può aiutare a sgravarlo però gli porta via anche un po' di traffico ovviamente perché già solo il fatto che si dovessero abbassare le fee su ethereum significherebbe che c'è meno traffico su ethereum viene meno utilizzata quindi ethereum dovrebbe puntare il prima possibile davvero a rendersi più utilizzabile più massicciamento utilizzabile perché ne ha solo da guadagnarci il valore del token più viene usata più il token si apprezza conosci unstoppable domains dunque dovrebbero essere quelli punto it giusto li conosco però non m'hanno mai convinto al 100% perché per la privacy non sono veramente il massimo ecco allora allora prima diretta ma fedelissimo su youtube grande ben arrivato mi fa sempre piacere quando vedo nuovi dunque 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 vediamo vabbè dai basta pausa con le domande per il momento stavo guardando se avevate qualcosina di volante esiste esiste assicurazione personale che checks non scappi con i btc allora checks che cos'è un exchange non saprei proprio cioè non non so non saprei che piattaforma è checks quindi boh non te lo so dire di assicurazione ce n'è poco niente quindi direi direi di no utilizzi gli on chain market identicators ti direi di no non li ho mai usati per il trading li osservo ma non li ho mai usati in generale parli di un centralize un exchange centralizzato a non uno specifico exchange guarda di garanzie non ce ne sono perché se tu vai a leggere termini e condizioni non sono bellissimi no unstoppable domain sono i punto cripto a no non li conosco allora io conoscevo gli quelli dell'ins l'ethereum name service quelli non li conosco allora diretti la verità comunque per il discorso dei dei centralized exchange non c'è nessun tipo di garanzia chiaramente sta tutto alla loro volontà di mantenere una buona facciata io mi aspetto che ovviamente se parliamo di coinbase che ha una sede in america ha una certa istituzionalità non può scappare con i vostri bitcoin perché altrimenti verrebbe sanzionato pesantemente però se parliamo di un exchange che ha una sede in un paese esotico e da due prestanomi in mezzo come detentori delle loro quote ecco ovviamente lì il discorso cambia non sarebbe la prima volta che accade e quindi ti direi di di stare attento cioè più c'è anche lì da fidarsi quindi se si parla di un exchange che ha il suo storico che ha persone che si espongono e parlano spesso in pubblico fanno capire chi sono sono regolamentati quindi alla loro sede legale in un posto dove c'è una certa regolamentazione alla quale obbediscono e si istituzionalizzano ovviamente mi fido di più dell'exchange che cerca un po' di svincolarsi chissà dove questo un po' il discorso allora andiamo a vedere adesso i nostri graficiozzi partendo da bitcoin quindi bitcoin è in uptrend oserei dire perché vi ricordate il discorso del range allora il nostro famigerato range che era compreso tra gli 8.500 circa e i 10.200 sopra è stato clamorosamente violato al rialzo papam ok quindi breakout da range e abbiamo un bel bias estremamente bullish quindi leg up lateralizzazione e breakout è un setup che chiamarlo bullish forse quasi riduttivo allora no scherzi a parte ovviamente la struttura è bullish perché abbiamo una abbiamo formato un ai che è superiore a tutti gli ai dell'ultimo anno abbiamo rotto una struttura veramente di lungo periodo che è tutta questa e dopo soprattutto una lateralizzazione duratura quindi questo imprime un forte bias bullish adesso in che situazione ci troviamo ci troviamo in una situazione nella quale sono state rotte le tutte le resistenze del range quindi con decisione la candela ci ha chiuso sopra con distanza questa è stata la candela di breakout poi abbiamo avuto subito una candelina di pausa piccola un clusterino che adesso è un cluster intermedio che funge anche da pool di domanda questo si è configurato come cluster intermedio dopodiché abbiamo avuto un'altra leg up con volumi sensibilmente decrescenti ma sempre sopra tono scusate perché sono belli incalzanti cioè se guardate la media storica poi c'è stato il breakout e dal breakout in poi non c'è mai stato volume sotto tono sono ovviamente decrescenti rispetto alla leg up del break per ovvi motivi perché questa candela si è portata dietro liquidazioni stop loss e compagnia bella e una volta superato poi cioè fatta quest'ultima leg up c'è stato il famigerato sell off siamo arrivati a poco più di 12.000 e poi c'è stata la prima svendita estremamente impulsiva questa svendita ha svuotato un bel po' l'open interest io avevo seguito quel giorno lì e vi avevo condiviso anche su telegram un bel po' di analisi devo anche andare short sui capelli oserei dire perché mi sta iniziando a venire una testa senza senso e seguitemi anche su telegram perché lì veramente vi condivido giorno dopo giorno la mia visione sul mercato e può essere utile come come complemento dump quindi flash dump oserei dire che è arrivato a ritoccare guardate il range high chiamiamolo la zona il la zona di top che avevamo identificato di questo il massimo storico dell'ultimo anno quello quello che doveva essere rotto per fare una year high 10.550 circa è stato sfiorato ma siamo arrivati lì a causa di cascate di liquidazioni e stop loss vero ho detto l'open interest si è svuotato durante questo dump dopodiché la domanda si è fatta viva chiaramente perché comunque il bias è fortemente bullish e ha fatto riconquistare i 10.900 e il supporto dato dal cluster intermedio quindi la conclusione di questo sell off qual è che non è cambiato nulla ok il bias rimane bullish non c'è inversione di struttura c'è solo un segno di scossa ok una candela di arresto potenzialmente una candela che indebolisce sicuramente il trend tuttavia perché dico che non è cambiato nulla perché non è stato perso nessun supporto importante abbiamo come supporto principale al momento questo cluster intermedio e poi sotto abbiamo il nostro range high quando cominceranno a cadere i supporti uno dopo l'altro allora lì ci preoccuperemo però per adesso non è intaccato assolutamente nulla addirittura il bias rimane molto bullish praticamente su tutti i time frames se andiamo a vedere sull'intraday per andare giusto a vedere le dinamiche più da vicino notiamo una sorta di non so nemmeno come chiamarla esattamente un quasi equilibrio tra domande e offerta perché da un lato abbiamo la domanda sul cluster intermedio questo che ogni qualvolta viene toccato vedete crea shadows e respinge quindi la domanda è viva come ho scritto su questa piccola nota tuttavia abbiamo anche l'offerta che a vive vegeta perché le resistenze reggono si sono formate alcune resistenze di breve quindi una è questa e una è questa lo scorso high questa è semplicemente nata un po storicamente tac e via e queste resistenze reggono quindi significa che la domanda è troppo debole per bucarle avremmo un segno di domanda qualora le resistenze dovessero iniziare a cedere e andiamo a riconquistare i nostri livelli abbiamo queste tre di resistenze quindi una due e questo cluster intermedio che è importante sul brevissimo ovviamente qua parliamo di intraday però poi sapete com'è il discorso si muove all'inizio da vicino si propaga sempre di più ed eventualmente trascini i time frame superiori in ogni caso questo impasse breve si risolverà quando o la domanda vincerà la sfida quindi riconquistando le resistenze di breve e propagando eventualmente il movimento oppure l'offerta vincerà e andrà a intaccare questo cluster intermedio quindi significa che andiamo a chiudere sotto i 10.900 che è questo piccolo range low chiamiamolo quindi una chiusura qua sotto significa che si è intaccata è stata assorbita tutta quanta la domanda che c'era qui che al momento sta respingendo ogni tentativo d'approccio e il target più probabile poi diventa la prima area di ritracciamento allora abbiamo identificato due aree di ritracciamento papabili per un ingresso che sono queste due che ho evidenziato in verde e in azzurro che differenza c'è tra l'una e l'altra ovviamente ha un discorso principalmente di rischio rendimento e di rischio miss cosa vuol dire? Vuol dire che se decidiamo di esporci di più sull'entry area 1 abbiamo un rischio rendimento minore ma un rischio miss minore perché ve l'ho detto se dovessimo perdere questo supporto magari ecco il primo target me lo immagino proprio lì perché è quest'area comunque appena sopra al range high al top ed è una zona di liquidità che dovrebbe essere diventata di domanda vedete nasce da qui si propaga bene e dovrebbe essere tenuta bene sotto controllo l'entry area 2 invece si configura un po' più sotto vedete è sotto questo top quindi una prima barriera di liquidità è già presa se c'è un flash dump quindi una botta di offerta che innesca liquidazioni e causa veramente ordini a catena tali da bucare il primo muro di liquidità allora potrebbe arrivare anche qua sotto andando a innescare a pescare un po' di liquidità da lì ecco lì io mi aspetto dell'altra domanda perché comunque la struttura rimane bullish la struttura diventa rischio se innanzitutto viene abbiamo qualche chiusura qua sotto perché riassorbiamo il breakout e in particolare se chiudiamo sotto a questo cluster intermedio questo che nasce da qui abbiamo l'assorbimento di tutto questo movimento quindi dell'impulso che ha causato il breakout l'intero impulso la differenza ve l'ho detto qui assorbimento del solo break quindi rientriamo nel range qui assorbimento dell'intero impulso e quindi è un segnale molto più forte e quindi sono i due punti papabili per lo stop placement semplicemente questa è un po' la mia visione attuale su bitcoin quindi niente di cui spaventarsi particolarmente sicuramente questa candela di sell off rallenta le cose non mi aspetto una continuazione forse nata rialzista magari ci assestiamo ancora un po' vediamo un po' come ci comportiamo i segnali sono il recupero di queste due resistenze e poi di questa per avere un po' di spinta la perdita al contrario di questo supporto significa che l'offerta è a favore c'è uno sbilanciamento a suo favore e quindi attenzione a queste due entry area per eventualmente un ingresso su ritracciamento con stop loss dove descritto vi faccio vedere anche visto che recentemente abbiamo chiuso la candela mensile qualche cosa sulla chiusura mensile per l'appunto quindi andiamo a vedere allora la chiusura mensile è bella perché è molto bullish guardate il grafico mensile allora innanzitutto avevamo la nostra triangolazione ve la ricordate che sembra essere stata rotta è stata violata definitivamente a rialzo e abbiamo appena riconquistato una resistenza data dallo scorso high perché il mensile è abbastanza regolare ha una triangolazione con un high qua nella bolla 2017 un low ai minimi 2019 inizio 2019 poi un'altra leg up che culmina a 10.000 11.000 circa poi un'altra flessione che ha avuto un flash dump a marzo ve lo ricordate sicuramente sì e la domanda che ha caricato talmente tanto da farlo recuperare subito quindi c'è stato un segno di domanda molto forte perché a differenza ad esempio di questa leg down in questo caso non abbiamo avuto il touch della base inferiore del triangolo questa leg down è seguita da un forte impulso di domanda una conferma di domanda nel mese successivo e una continuazione rialzista poi a seguire fino alla rottura del triangolo e dello scorso high quindi al momento abbiamo una struttura bullish anche su time frame mensile perché abbiamo rotto lo scorso high la candela di agosto sarà importante perché se confermerà la rottura dello scorso high darà ancora più significatività alla struttura nuova che si è formata e poi guardate una piccola curiosità la chiusura della candela di luglio è la massima storica alla posizione numero 2 e alla numero 1 abbiamo soltanto dicembre 2017 quindi è notevole cioè siamo al secondo posto nei massimi assoluti di bitcoin di chiusura della candela mensile sopra c'è soltanto quella della bolla del 2017 quindi la situazione è bullish non facciamoci accecare oscurare dal flash dump che c'è stato qualche giorno fa teniamolo d'occhio perché è un segnale importante come abbiamo accennato poco fa però ecco guardando il quadro dall'alto si capisce molto bene che per il momento questo è una piccola un piccolo assestamento dopo un breakout da una resistenza importante su un time frame che è quello mensile quindi insomma teniamolo ben a mente anche questo torniamo sulle altre coin in particolare sulle mie posizioni allora mio malgrado cioè mio malgrado cavalo chiusa ve l'ho detto e per adesso non ho in programma di aprire un'altra posizione le mie posizioni aperte al momento sono su ethereum ethereum bitcoin che continua a progredire rompendo resistenze quindi sta spingendo veramente tanto addirittura il movimento si sta propagando al punto tale che su time frame settimanale ha rotto anche qua i suoi high scores che sono questi due 0,0276285 che è al momento il principale guardate facciamo anche così supporto che è stato ritestato una sola volta ma in maniera flash vedete su questa candela tac e salviamo al momento ve l'ho detto c'è stata la rottura recentemente di questo livello qui che è 0,0318 poi abbiamo sopra la nostra testa 365 385 questi due tac e tac e una volta rotti quelli stiamo cioè facciamo ancora uno step in alto perché tutto questo diventa una struttura a sua volta violata a rialzo e quindi propaga di un ulteriore step per l'appunto il bull market di ethereum ponendo come target successivo ragionevole questo cluster intermedio nonché questo bottom 0,055 parliamo insomma di un'altra di una fase bullish non trascurabile per ethereum qualora dovesse accadere quindi attenzione cioè sinceramente io dubito quantomeno che accada tutto ciò senza nemmeno un ritracciamento qualora ritracciasse i supporti interessanti per andare a posizionare un entry sono 0,0318 in primis e quest'area verde in secondo luogo se il ritracciamento è talmente profondo da arrivare in quest'area verde lo stop loss si configura tra l'altro benissimo qua sotto con un rischio rendimento tutto sommato eccellente a mio modesto parere qua invece diventa una posizione un po' più speculativa perché lo stop loss dovrebbe essere teoricamente sotto il supporto ancora prima e quindi forse un pelino largo però insomma poi sta a ognuno giudicare io ovviamente mi tengo la mia posizione long aperta ho ribilanciato a inizio mese il mio portafoglio mantenendo l'esposizione del 15% su ethereum magari adesso farò un nuovo video sulla mia esposizione sui miei investimenti in crypto e basta questo un po' il discorso poi l'altra posizione long che ho aperta è su bnb bnb che anche lui vedete non si sta comportando male perché sul settimanale vedete il long lo avevo aperto in questa area verde in sostanza dopo questo breakout e retest poi c'è stato questo dip questo flash dump anche suo quando bitcoin ha sparato che tutte le altcoins hanno randellato a ribasso però poi vedete che la domanda si è fatta subito sentire ha proiettato verso l'alto al momento abbiamo una resistenza notevole qua che qualora poi venisse rotta si continua il movimento ascendente che avevamo immaginato tra l'altro il buon vecchio CZ per tenere l'hype elevata ha annunciato su twitter che tra non molto ci sarà un nuovo launchpad a tema DeFi quindi via boom buzzword su buzzword per tenere giusto un po' di hype sul token e niente questo è quanto di altre posizioni sulle altcoins non ne ho e quindi lascio la parola a voi ma avete chiesto Stellar e la vado a vedere subito perché me la ricordo allora Stellar guardate cosa ha combinato tra l'altro è ritornata proprio sull'entry allora aspettate un attimo allora l'entry era distribuibile tra il 951 quindi questo top qui il top della shadow eccetera eccetera fino a quest'area qui più o meno poi c'è stato anche in questo caso un dip e adesso sta ritornando risalendo un po' però vi dico la verità al momento non punterei a un entry su Stellar perché ci sono coin messe meglio cioè se vi ha pescato l'entry in questa zona seguite il piano però con questa nuova configurazione sinceramente non andrei a mettere di nuovo un entry qua sotto in caso di ritorno a questo livello qui personale visione perché appunto ha già pescato liquidità da qua quindi o va adesso e continua verso l'alto e bene bello scenario ma altrimenti se ritorna e fa una nuova flessione potrebbe essere meno convincente perché farebbe un lower high un lower low anche rispetto a questo e insomma c'è il rischio che la configurazione non sia proprio stupenda bene adesso ritorniamo a voi fate domande dite cose chiedete pure vediamo SXP allora vediamolo subito swipe dov'è 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 mi ero perso l'avevo anche messo no non l'ho messo swipe eccoci allora swipe bello nel senso è una bella struttura è ben messo perché comunque ha questo impulso rialzista abbastanza notevole poi è legato a doppio capio alla Binance Card perché è messo appunto da swipe che è stato acquisito da Binance e quindi ha un certo valore intrinseco anche lui tuttavia in questo momento c'è un però questo è un lower low teoricamente questo è un high fortemente puntiforme quindi adesso sta cercando un altro high al momento è alle prese con questa resistenza questa e qualora la rompa poi avrà alle prese cioè sarà alle prese con quest'altra e poi allora potrà continuare il suo rialzo tuttavia c'è da tenere conto che primo c'è una possibile inversione di strutture in atto perché questa candela con volumi marcati ha abbattuto questo supporto poi è vero che c'è stato un po' di lateralizzazione un possibile reclaim ma i volumi non sono molto alti quindi sembra più appunto una ricerca di uno swing high che poi rischia di andare a cercare in seguito un lower low e preferirei non entrare su uno scenario così qualora invece appunto dovesse tornare una bella spinta rialzista andare a riconquistare a recuperare i massimi locali allora va bene nel senso continuiamo pure a seguire il momentum però ripeto solo in quel caso lì altrimenti non è interessante unito al fatto che c'è poco storico io al momento ne starei cioè non la toccherei ma è una personale opinione è soltanto per il mio modus operandi poi allora vediamo un po' REN andiamo a vedere REN che sta spingendo se non ricordo male sì 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 REN guardate se vi ricordate avevamo identificato questi due livelli come possibili possibili aree di interesse una delle quali vedete è stato preso ha pescato un po' da lì e poi pam vedete due candele verdi fortissime che hanno riportato il prezzo pressoché i suoi massimi locali adesso li sta approcciando e poi c'è da vedere cosa combina se li rompe va un po' in price discovery e poi magari ci sono le opportunità di buy the dip su time frames minori tipo gli intraday però al momento è bello esteso quindi sul giornaliero non ci vedo queste grandi opportunità c'era l'opportunità appunto qua sul ritracciamento però è durata poco come opportunità BAND allora andiamo a vedere BAND che anche lei spinge 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 BAND guardate è arrivata al cluster intermedio lì di supporto e si è palesata un sacco di domanda qua sopra tra l'altro guardate non ha neanche toccato il body della candela ha toccato le shadows poi c'è stata subito un impulso di domanda un po' di lateralità un tentativo di dump respinto da domanda altra domanda e adesso è un po' come REN insomma è alle prese con i suoi massimi locali sta cercando di capire cosa fare da grande e speriamo che lo scopra nel senso se va a rompere di nuovi massimi locali va in price discovery e se ne vedranno delle belle ci sono opportunità di long speculativi anche lì altrimenti se fa un lower high c'è da vedere poi come evolve se il low che farà sarà un higher low o un lower low e da lì poi definiremo la struttura nuova che si forma per adesso anche qua non ci sono particolari setup evidenti perché è una pseudolateralità insomma si c'è un impulso di domanda però non ha ancora trovato il suo high quindi è una fase un po' di correzione barra lateralizzazione dunque 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 voglio uno sguardo ad atom ma certo che si andiamo a vedere uno sguardo ad atom e poi a tezos allora atom purtroppo ha riperso questo questa zona di questo cluster di prezzo questo non è un bellissimo segno per quanto mi riguarda perché comunque aveva spinto qua ha fatto una sorta di doppio minimo poi ha spinto riconquistando questo livello tuttavia la resistenza l'ha ostacolato e poi l'ha ribucato senza particolare esitazione questo non mi piace quindi per ora atom per me è no sinceramente e tra l'altro creando questo high così puntiforme anche cioè qualora dovesse fare un reclaim di questo livello magari ci sta il trade da qui a qui però non ancora trend follower per quello servirebbe il reclaim anche di questo livello e allora sì che potrebbe invertire la struttura però fino ad allora questo high così puntiforme rende difficile il creare una struttura rialzista subito perché ci vuole quanto meno un po' di lateralizzazione e poi una continuazione è difficile che faccia subito un higher high perché ci vorrebbe veramente una quantità di domanda fuori 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 di testa Tezos eccola allora Tezos è carina perché c'è questo supporto che tiene sempre 0,000239 che una vabbè qua non l'ha neanche toccato 2 3 ha sempre scatenato domanda adesso la domanda è diretta esattamente qui che è la prima resistenza vedete che bene o male il suo sporco lavoro lo fa sempre e quindi vediamo come l'approccia perché se fa così ci può stare il trade speculativo assolutamente da confermare in trend follower qualora dovesse poi fare degli higher high e da riconfermare se va a flippare anche quest'ultima resistenza perché all'uscita da 3,795 farebbe lo manderebbe anche lui in price discovery quindi c'è veramente del gran potenziale questo potenziale si può sfruttare arrivando anche in anticipo rispetto al mercato magari appunto andando a osservare molto bene gli approcci con queste due resistenze che sono quelle più vicine entrando magari long speculativo lì si riesce a mettersi in vantaggio rispetto al mercato qualora le cose dovessero andare per il meglio e il round che ne dici andiamo subito a vedere attenzione del round della nuova tokenomic non mi piace come mai ho scritto un messaggio su vediamo vediamo lo voglio andare a leggere perché sono sempre interessanti caspita dov'è 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 mannaggia 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 eccola qua allora secondo me è questo attenzione il round verrà oscillato agli albori ma l'ultima mossa mi ha lasciato leggermente spiazzato vediamo cosa succederà ma state attenti perché non sono sicuro che i biggolder rimarranno tranquilli col discorso swap intendo che il discorso abolizione di elrond passando ad elrond gold già il nome mi fa storcere il naso porta una coin nata principalmente per lo sviluppo ad essere accumulata senza alcun reale uso per un discorso store of value e non mi fido delle whale è una mia personale idea ma quantomeno seguite la giorno per giorno gli stakeholder avranno 29% pensi davvero che i primi non damperanno sui nuovi arrivati interessante interessante quindi occhi aperti anche su elrond dice così perché detiene il 90% di elrond e vuole vendere ah sei tu è uno degli early stakeholders di la verità bene 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 ragazzi che dire io vi saluterei perché ve l'ho detto oggi il tempo è un po' limitato abbiamo fatto un'oretta anziché un'oretta e mezza però ci vediamo sempre venerdì così non vi ho fatto tutti i pipozzi vari da tenervi qui per un'ora e mezza ci vediamo comunque venerdì ve l'ho detto con il live a durata immagino tradizionale non dovrebbero esserci particolari problemi né impegni e vi voglio tutti quanti sul pezzo perché da qua venerdì potrebbero succedere un sacco di cose tipo bitcoin che pompa bitcoin che dampa insomma adesso è lì che sta con la resistenza sopra e il supporto sotto che palleggia un po' quindi con i volumi che ci sono in gioco in questi giorni non immagino che questa stabilità potrà durare a lungo insomma è ritornato un po' in volatilità magari sarà già pronto il set chi lo sa chi lo sa dipende tutto da quanto tempo riuscirò a ritagliare ma sicuramente una cosa è certa che voi dovrete essere sempre sul pezzo quindi mi raccomando seguitemi sempre su tutti i canali social dove trovate un po' di info varie giovedì magari mettiamo il video su polkadot lunedì prossimo mettiamo l'ultima puntata la terza parte dell'intervista a Christian dove parleremo di altre cose altrettanto interessanti quindi insomma dovete stare sul pezzo perché avete capito che qua non si scherza e ci sono sempre cose da fare cose da seguire contenuti da beccarsi vi auguro una buona serata e ci vediamo molto 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 presto alla prossima grazie a tutti